Noi oggi facciamo un salto nel Nuovo Testamento e ci chiediamo come nel Nuovo Testamento erano visti i Dieci Comandamenti. Questa domanda, che sembra quasi retorica, invece avrà come risposta a qualche cosa di problematico, perché il cristianesimo nascente sembra aver lasciato in ombra i Dieci Comandamenti. E perché li ha lasciati in ombra? Quest'oggi vedremo il motivo. Sant'Agostino, quando ha cominciato ad avere a che fare con i suoi pescatori, si è accorto che viaggiare molto in alto a livello dei concetti non era salutare, perché quest'oro non capivano. E allora Sant'Agostino e i suoi discepoli hanno detto, beh ci sono dieci dita in una mano, insegniamo i comandamenti uno per dita, e questo diventa facile da memorizzare, quindi almeno un fondamento minimo di vita morale lo si può trasmettere, perché discorsi impegnativi con i pescatori di allora non si possono, non si potevano fare. Così nasce la presenza dei Dieci Comandamenti nella Catechesi Cristiana. Però, se facciamo un po' di numeri, Agostino vive alla fine del IV secolo, inizi del V, e che vuol dire che per quattro secoli il cristianesimo non ha sentito il bisogno di rifarsi ai comandamenti per la propria vita morale. Qual è il motivo? Oggi cerchiamo di capire qual è questo motivo. E lo cercheremo di capirlo attraverso la lettura e la comprensione di due testi. Uno riguarda il Vangelo di Luca, e l'altro riguarda il Vangelo di Matteo. Siamo alla linea 20.01 sulla destra. Un notabile lo interrogò Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli rispose Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci comandamenti Non commettere adulterio, che sarebbe il sesto. Non uccidere, che sarebbe il quinto. Sembra che Gesù non sia andato a catechismo dalle suore Perché quelle ti fanno dire i comandamenti in ordine Poi vedremo cosa si nasconde dietro a questo piccolo problema Non rubare Non testimoniare il falso Onora tuo padre e tua madre, che sarebbe il quarto Costui disse Tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza Udito ciò Gesù gli disse Una cosa ancora ti manca Vendi tutto quello che hai Distribuiscilo ai poveri E avrai un tesoro nei cieli E vieni Seguimi Ma quello, udito queste parole Divenne assai triste Perché era molto ricco Quando Gesù lo vide così triste Disse Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze Entrare nel regno di Dio E' più facile per un cammello Passare per la cruna di un ago Che per un ricco Entrare nel regno di Dio Quelli che ascoltavano dissero E chi può essere salvato? Rispose Ciò che è impossibile agli uomini E' possibile a Dio Punto Allora, se noi applichiamo un pizzichino il metodo storico-critico La prima cosa che dovremmo fare E cercare di capire Se Nell'ultimo rettangolo a destra Versetto 25 Non vi ho messo neanche la numerazione Perché non è importante per noi oggi fare Una esercesi completa degli ultimi due rettangoli Ci interessano di più I rettangoli precedenti Comunque La faccenda del cammello Penso che tutti la conosciate, vero? E la conoscete sbagliata Mai dire di sì a un biblista Quando mette domande facili Io mi ricordo Ma penso che la stessa avventura L'abbiate vissuta anche voi I nostri vecchi preti E anche i nostri vecchi biblisti Dicevano Qui probabilmente c'è un errore Perché in greco Se voi andate Alla terz'ultima parola Della stessa riga In greco Trovate la parola Camelon E all'accusativo Nominativo Camelos Vuol dire cammello Però Alla quarta letterina Se invece di mettere una eta Quella specie di n Che voi vedete Mettete uno iota Una i Camelos Vuol dire corda Quindi la differenza È solo una letterina E allora molto spesso Si sentivano questi biblisti Per cui è ricaduta Poi parroci È ricaduta Noi Che dicevano Ma probabilmente Gesù avrebbe detto È più facile Infatti Che una corda Per una corda Passare Per la cruna Di un ago Che per un ricco Entra nel regno di Dio E noi eravamo soddisfatti Di questa spiegazione Sì O sì E infatti Il problema È un altro Non è questo Perché nelle mura Di Gerusalemme Non tutte le porte Erano grandi C'erano anche Delle porte anguste Dove passava Solo un uomo Un asino Non riusciva a passare Tanto meno Un cammello Quindi la cruna d'ago Poteva essere Una porta di Gerusalemme Allora è più facile Che un cammello Entri attraverso Questa Porta strettissima Che un ricco Entri nel regno Dei cieli E il cammello Ci stava bene Per questo motivo Oggi La scienza Della critica Testuale Dice Mai Toccare Il testo Se non ci sono Prove Archeologiche Cioè Se non c'è Qualche frammento Di pergamena O di papiro Che possa indicare Che qui esiste Una variante Nella tradizione Di copiatura Testuale E sappiamo Che invece Su questo brano Oltre i 5.000 Manoscritti Che noi Possediamo Tra L'inizio del Secondo secolo E il quinto secolo In questo brano Non c'è mai Nessuna variante Testuale Non c'è mai Un manoscritto Che scriva Camilos In tutti C'è Camelos Camello Quindi Nessuno mai E' stato Tentato Di creare La variante Corda Questo ci sta a dire Allora Che gli antichi Che conoscevano Le mura di Gerusalemme Meglio di noi Dicevano Sì Paragone Corretto Ci siamo E quindi Non pensiate Più male Perché molto spesso Qualche sapientone Poco intelligente Dice Se questo è il cristianesimo Che tenta di far passare Il cammello Per la cruna Di un ago Sì ma La cruna di un ago E' una porta Delle mura Di Gerusalemme Va bene Chiarito Questa stupidaggine Veniamo invece A qualche cosa Di più importante Nel brano Che noi abbiamo letto Abbiamo visto Che ci sono Degli spostamenti Non simpatici Alla linea 007 Gesù dice Tu conosci I comandamenti Si tratta Di un fatto Dunque Appartenente Alla formazione Delle persone Dell'epoca di Gesù Solo che Rimaniamo Stupiti Che il comandamento Dell'adulterio Preceda Il comandamento Dell'omicidio Mentre invece Se voi Andate A occhieggiare La linea 14 Prima c'è Il comandamento Dell'omicidio E alla linea 15 Casomai Il comandamento Sull'adulterio Che i cristiani Prontamente Hanno amplificato Nel settimo secolo Fino a farlo diventare Non commettere Atti impuri C'è un salto Dunque Tra adulterio E atti impuri Perché l'hanno fatto Lo vedremo Dunque La domanda è Come mai Gesù Enunce Comandamenti Con questo Disordine Allora Il disordine Che voi Trovate Alla linea 008 009 010 Non è un disordine Il vero disordine L'ho trovato La linea 012 Come mai Il quarto Comandamento È andato a finire Laggiù in fondo Allora Cerchiamo di capire Ne abbiamo già parlato Altre volte Qui I problemi Sono due Primo Il disordine Dalla linea 008 Alla linea 011 E il secondo Problema È Il 012 Per quanto Riguarda I primi Comandamenti Non quest'ultimo La chiave Di volta È facilissima Da trovare E la chiave Di volta La trovate Alla linea 29 In quello Specchietto Lì Naturalmente Leggere Questo specchietto Significa capire Al volo Come stanno Le cose Sulla sinistra Avete Il testo Ebraico Perché Nessuno Si trovi Smarrito Sotto Il testo Ebraico Avete la traduzione Dell'ebraico A destra A destra Avete il testo Greco Perché nessuno Si trovi A disagio C'è la traduzione Del testo Greco Cosa vedete? Vedete che il testo Ebraico Ha L'ordine Che noi Abbiamo Copiato Il testo Il testo Greco Fa I capricci Perché Il testo Greco Che mi rovescia L'ordine Dei comandamenti È la traduzione Greca Fin qua Ci siete Poi C'è da Chiedersi Cos'ha Combinato Il testo Greco Con Esodo Venti Cioè Con L'altra Redazione Dei comandamenti Di là Il testo Greco È stato Fedele Al testo Ebraico Qui invece No Questo Rovesciamento Dei comandamenti Dunque Che Gesù Fa Non è Un errore Suo Ma È la Citazione Di un Ordine Che era Già Presente Nel testo Sacro Greco E allora Qui C'è un'altra Domanda Ma Gesù Parlava Greco Certamente Gesù Conosceva Il greco E lo sappiamo Da tanti indizi Dalla parola Ipocritai Dal fatto Che Gesù Dialoga Con Pilato Senza Traduttore E Pilato L'aramaico Non lo Conosceva Dal fatto Che Gesù Era un Tecnes E quindi Era andato A Sepphoris Per costruire L'anfiteatro E lì Le maestranze Romane Parlavano Ovviamente Greco E Se gli operai Non capivano L'anfiteatro Non andava avanti Ci sono dunque Elementi Che ci fanno Comprendere Come Gesù Conoscesse Bene Il greco Tuttavia La gente Comune Non conosceva Bene Il greco Conosceva Bene L'aramaico E Gesù Quando parlava Parlava A livello Di gente E quindi Parlava Aramaico Massimo Che un rabbino Poteva fare Era citare In ebraico Il testo Dei comandamenti Come Come se io Adesso Vi citassi Qualche cosa In latino E poi Ve lo traduco Stessa cosa Faceva il rabbino Certamente Un rabbino Che parlava Agli ebrei Non citava Il greco Allora Da qui Altre domande Capite che Cos'è L'esegesi La domanda È Ma Chi Aveva Invece Il testo Greco Come testo Quotidiano Dell'Antico Testamento La Chiesa Nascente Questo Noi lo sappiamo Perché Leggendo Il Nuovo Testamento Quasi Tutte Le citazioni Che il Nuovo Testamento Fa Dell'Antico Sono Tratte Dal testo Greco Questo Ci sta a dire Dunque Che la Chiesa Delle Origini Aveva Adottato Il testo Dei 70 Come testo Dell'Antico Testamento E la controprova L'abbiamo Nel fatto Che dopo la distruzione Di Gerusalemme Il rabbinato Di Yamnia Decide Di espellere Dalla lettura Sinagogale Il rabbinato Di Yamnia Deve Ristrutturare Il culto Ebraico Senza Il tempio E senza Il sacrificio E fa Della sinagoga Il luogo Centrale Del culto Ebraico Dove Si faceva Solo La liturgia Della parola Allora In questa Occasione Il rabbinato Di Yamnia Butta fuori Dei piedi Il testo Dei 70 E Ordina A tre Studiosi Ebrei Aquila Simmaco E Teodozione Di fare Altre traduzioni Greche In questo caso Fare altre Tre traduzioni Greche Sulle quali Poi eventualmente Fare una scelta Di queste tre Traduzioni Noi conosciamo L'esistenza Per merito Di origine Il quale Ha composto Un'opera Interessante Chiamate Esapla Sei colonne Ebraico Pronuncia Ebraica Però in Lingua greca Testo Dei 70 Tre E le altre E le altre tre Aquila Simmaco E Teodozione Se le cose Stan così C'è da chiedersi Se Gesù Abbia citato Abbia citato In ebraico E la chiesa primitiva Per bisogni suoi Abbia infilato Il greco Perché per bisogni suoi Perché Certamente Un rabbino Non cita In disordine I comandamenti E qui E qui abbiamo Un disordine Maggiore In quanto Alla linea 012 Abbiamo il quarto Comandamento 6 5 7 8 4 Che cosa Si nasconde Dietro a questo Disordine Beh la prima Parte è spiegabile Con il fatto Che nella chiesa Primitiva Si leggeva Più volentieri Il testo Del Deuteronomio Che non Il testo Dell'Esodo E questo Perché Perché Gli studi Moderni Stanno Confermandolo Perché Gesù Era molto Più simpatizzante Della teologia Deuteronomistica Che non Della teologia Sacerdotale Voi dite Don Cosa ci sta Dicendo Nell'Antico Testamento La prima Grande Scuola Teologica Che nasce Alla fine Del settimo Secolo E ha La sua Esplosione Di maturità Nel sesto E nel quinto Stiamo venendo Verso Gesù Cristo Quindi i numeri Sono rovesciati E la scuola Deuteronomistica Perché si chiama Scuola Deuteronomistica Perché La prima Grande opera Che fa questa scuola È il Deuteronomio Su questa Grande opera I successori Dei fondatori Della scuola Deuteronomistica Compongono La storia Deuteronomistica Giosuè Giudici Primo e Secondo Samuele Primo e Secondo Re Che è il primo Trattato di storia Dell'antichità In assoluto Dove noi Non abbiamo I racconti Dei fatti Secondo il criterio Degli annales Ma abbiamo Il racconto Secondo il principio Di giudizio Che l'autore Esprime All'inizio Dell'opera E secondo Il criterio Di causa E conseguenza È un trattato Dunque di storia Con tutti i carismi Moderni Fine del settimo Sesto Inizi del quinto È la prima Grande scuola Che elabora Tutto il materiale Biblico precedente Quindi anche Le fonti Del pentateuco Quindi anche La letteratura La profetica Preesilica È una scuola Che ha fatto Un lavoro Immenso Nella Bibbia Ed è una scuola Intelligente Molto aperta Capace dunque Di fare Riflessioni Che alla scuola Teologica successiva Diventerà impossibile Fare Metà del quinto Secolo Fino a tutto Il quarto Prevale La scuola Sacerdotale Ovvio È una scuola Tradizionalista Conservatrice Molto rigida Dalla quale Poi A livello Di mentalità Derivano I movimenti Ebraici Dell'epoca Di Gesù E per questo Molti farisei Pensavano Che Gesù Fosse dalla loro Parte E invece Era un anarchico Era per conto suo Bene Questo ci sta a dire Dunque Che la chiesa nascente Aveva sposato La mentalità Di Gesù E Traeva La sua Formazione Biblica Soprattutto Dai testi Deuteronomistici Mentre Mentre invece L'ultimo Comandamento Che viene Messo Alla linea 012 È dovuto A una Aggiunta Probabilmente Gesù Questo comandamento Non l'ha detto È un'aggiunta Della chiesa Nascente Per quale motivo? Perché nella sua Predicazione Gesù Un giorno Quando probabilmente I venerdì Erano caldi Se la prende Con la mentalità Della scuola Sacerdotale E fa Una predicazione Con questo esempio Trascurando il comandamento Di Dio Voi osservate La tradizione Degli uomini Diceva loro Siete veramente Abili Nel rifiutare Il comandamento Di Dio Per osservare La vostra Tradizione Mosè Infatti Disse Onora Tuo padre E tua madre E chi Maledice Il padre O la madre Sia messo A morte Voi Invece Dite Dite Se uno Dichiara Al padre O alla madre Ciò con cui Dovrei aiutarti E corban E corban Cioè offerte a Dio Non le consentite Di fare più nulla Per il padre E la madre Così annullate La parola di Dio Con la tradizione Che avete tramandato Voi E di cose simile Ne fate Avete capito Cosa ha detto Ha detto Questo Esiste il comandamento Onora Tuo padre E tua madre Sì Voi Non lo mettete In pratica Perché Avete cento euro In tasca Pensate Di darle Al tempio Cinque minuti Dopo Arriva Tuo padre E dice Senti Per finire Il mese Prima che mi Arrivi la pensione Bisogna di cento euro Risposta del figlio Io li ho E li ho In tasca E vorrei Darteli Ma non posso Perché nel mio pensiero Gli ho già Offerti Al tempio E la legge Rabbinica Non la legge Di Dio La legge Rabbinica Dice Che se tu Hai pensato Di fare Un'offerta Al tempio Se quei soldi Sono nella tua Tasca Non sono più Tuoi E Gesù Dice Ma questa È una stupidata Perché La legge Di Dio Supera Qualunque Legge Degli uomini E quindi Prima la legge Di Dio Poi se si può Anche la legge Degli uomini Ma se non si può Chi se ne importa Mentre voi Dice Gesù Rovesciate Il valore Mettete prima La legge Degli uomini E poi Quella di Dio Questo è stato Una specie Di ritornello Continuo Che Gesù Ha adoperato Lungo tutta La sua vita Quando voi Leggete La parabola Dei vignaioli Omicidi Tutti quanti Voi Pensate Che lì Gesù Stia facendo Una specie Di allegoria Sulla storia C'è una vigna Ci sono dei vignaioli Che fanno Un contratto Col padrone Questi Non vogliono Dipendere Dal padrone E invece Il contratto Prevederebbe Questo Il contratto Lo hanno fatto Liberamente Loro Vogliono Impossessarsi Della vigna Fanno fuori I servi Fanno fuori Il figlio Cosa farà Il padrone Della vigna Gesù Pone la domanda Ma la domanda È tipico Della parabola Non dell'allegoria E la gente Innocentemente Risponde Verrà Ucciderà I vignaioli E darà La vigna Ad altri Sotto C'è il versetto Che dice Che i sommi Sacerdoti E gli iscribi Avevano capito Che aveva parlato Contro di loro In altre parole Gesù Cosa aveva fatto Aveva presentato Una parabola Dove c'era Il problema Della Autonomia O dell'eteronomia Della dipendenza O della indipendenza Ed ovviamente La gente Risponde No I vignaioli Hanno firmato Per la Dipendenza Ed è giusto Che siano Dipendenti Inizialmente Neanche voi Capite La dinamica Ma Provate a pensarci È chiarissima Se voi Seguite La legge Degli uomini E non Quella di Dio Siete Dipendenti Da Dio O Indipendenti Da Dio Capite dove Voleva arrivare Era un drittone Gli altri Che non sono Meno intelligenti Hanno capito Dove voleva arrivare